Musica Elezione amministrativa per il comune di Bova Marina, siamo con Giuseppe Autelitano, candidato sindaco per la lista numero 3, municipio, bene comune. Un nome che già di per sé vuol dire tanto perché è una scelta fatta non a caso quella del nome di questa lista, è un segno programmatico per il futuro e quindi quello che sarà, qualora verrete chiamati alla guida del comune, quello che sarà alla fine ciò che attuerete realmente. Ha detto bene il motto che abbiamo scelto per la nostra lista, non è solamente una formalità, uno slogan come se ne usano tanti in queste campagne elettorali per le elezioni amministrative, ma è il frutto di una nostra valutazione e di quello che in effetti è il filo conduttore della nostra idea di amministrare il comune, cioè dire il bene comune. Il bene comune è il municipio, è il territorio, sono le scuole, i giardini, le strade, i marciapiedi, tutto ciò che riguarda il privato che non sia esclusivamente un fatto singolo, autonomo, ma è anche il privato che può diventare un fatto pubblico se gestito nella visione del bene comune. Usciamo da praticamente due anni di commissariamento, le emergenze sono tante e i punti che saranno all'ordine del giorno del comune, del consenso che verrà partono principalmente dall'ambiente, la depurazione e la raccolta differenziata. Sì, due anni, anzi io direi quasi due anni e mezzo, perché l'insediamento di un primo commissario per lo scioglimento del Consiglio è avvenuto nel novembre del 2011 e poi nell'aprile del 2012 c'è stato lo scioglimento per infiltrazione mafiosa con la nomina di una commissione straordinaria che ha gestito il comune per due anni e due mesi, quindi parliamo di due anni e mezzo, di un pesante commissariamento. Ora io non so che cosa la futura amministrazione troverà, certamente la commissione straordinaria avrà agito su tanti livelli, un livello di bonifica che è quello che è il principale compito che ha una commissione straordinaria ma anche quello della gestione ordinaria. Sulla gestione ordinaria ci sono tanti punti un pochettino lasciati indietro o quantomeno che non hanno visto una risposta che noi ci aspettavamo dal punto di vista anche tecnico, burocratico, operativo. I problemi sono tanti, ecco, al di là di una rimessa in linea, in riga dell'amministrazione comunale nel senso della legalità, sicuramente la commissione straordinaria l'ha realizzato, però sulla soluzione di alcuni problemi, sì, per quanto riguarda la raccolta differenziata sappiamo che c'è un accordo, un consorzio di comune, a cui è aderito anche il comune di Bova Marina, però il mese scorso c'è stato un protocollo di intesa con i comuni di Montebello Ionico, Capofila, San Lorenzo, Bagalati, Bova Marina e Palizzi, e Bova mi pare. E quindi questo, almeno dopo due anni e mezzo, la questione della raccolta dei rifiuti solidi urbani speriamo possa trovare una immediata soluzione. Per quanto riguarda la depurazione, questo è un lato un pochettino più impegnativo e più difficile da risolvere nei tempi brevi, perché la futura amministrazione si insederà praticamente ai primi di giugno e già siamo in piena stagione estiva. Una cosa, ecco, l'unico dato confortante è che sappiamo che il finanziamento fatto nel 2001, mi pare, e che oggi ammonta 4 milioni e 200 mila euro per la costruzione del nuovo depuratore, è salvo. E però sono caduti tutti i presupposti della realizzazione di quel depuratore. Allora si era iniziato negli anni, mi pare, 2007, con l'inizio di questi lavori, però un cittadino di Bova Marina che ha dei terreni e proprietari di alcuni terreni circostanti, la vecchia discarica dove doveva sorgere questo depuratore nuovo, ha fatto ricorso al Tar, nella prima stanza è stata accolta, però finalmente il Consiglio di Stato gli ha dato torto, perché c'è stata l'opposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione e del Comune di Bova Marina. Quindi l'aria, diciamo, che sarebbe disponibile, però ormai sono passati 12 anni, il progetto è caduto, tutte le condizioni burocratiche per realizzare questo nuovo depuratore sono cadute, per cui i tempi per realizzare un nuovo depuratore saranno lunghi necessariamente, con l'individuazione del sito, del nuovo sito, che è la cosa più importante e delicata, perché c'è l'impatto anche con i cittadini e con l'ambiente. Poi la redazione di un progetto e poi quindi noi stiamo pensando di chiedere alla Regione Calabria, al commissario dell'ambiente che gestisce questi fondi, uno stralcio, un'anticipazione, che non so come chiamarla, poi vedremo, su questi fondi per rimettere in sesto almeno il vecchio depuratore, perché qualche tecnico che se ne intende di realizzazione di questi progetti dice guarda, non meno di 4-5 anni per fare un nuovo depuratore. Quindi nei tempi brevissimi non so che cosa si potrà fare, sicuramente per il prossimo anno noi questo problema lo dobbiamo risolvere, anche con il vecchio depuratore, temporaneamente, ma sicuramente lo faremo. Su questi temi i cittadini saranno pienamente coinvolti, anche perché nel vostro programma c'è una scelta ben precisa, che è quella della democrazia partecipativa, con i referendum abrogativi e propositivi. Sì, certo. I cittadini, specialmente per quanto riguarda la raccolta differenziata, saranno i primi attori di questo nuovo processo di cura e di tutela del bene comune, che è quello della polizia, dell'ambiente salubre, sano, igienicamente non suscettibile a inquinamenti. Sappiamo che questi cassonetti pieni di spazzatura sono un straordinario veicolo di infezione, topi, gatti, cani, chi ne ha più ne mette. Quindi mai i cittadini dovranno assolvere, secondo me e secondo noi, gran parte di questo impegno per risolvere questi problemi. Cittadini che, come avete anche detto durante la campagna elettorale, verranno coinvolti sulla scelta anche di un'altra cosa molto importante, che è quella delle sorti dell'ormai ex centro AISM? Sì, sicuramente. Ormai purtroppo possiamo considerare l'abbandonato. Questo che per qualcuno è stato un sogno, come per esempio per la mia amministrazione del 2001, che è riuscita in un'impresa epica, quella di in sei mesi di consegnare una struttura restaurata, ripulita, da anni di abbandono, che ormai era diventata la stalla di Boma Marina, eravamo riusciti a rimettere in sesto questo edificio, consegnarlo all'associazione, che minacciava fra l'altro di abbandonare tutto questo progetto. Per molti è stato un sogno, per molti è stata anche una strumentalizzazione. Voglio ricordare che nella imminenza delle ultime elezioni amministrative del 2008, la lista che poi ha vinto le elezioni, nei mesi precedenti ha illuso 100 giovani, costituendo una cooperativa ad hoc per impiegarla in questo fantomatico centro AIS. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, noi sottoporremo, appunto come diceva, oltre al fatto che abbiamo denunciato alla magistratura questo scandalo, questa truffa, noi sottoporremo ai cittadini questo referendum che può essere abrogativo o anche propositivo su tanti altri problemi, ma sicuramente è un provvedimento, è una cosa che faremo perché i cittadini devono essere coinvolti nelle decisioni importanti del Paese. Grazie, sì, su questo, grazie anche alla Convenzione, all'articolo 4 che prevede la possibilità da parte del Comune di rescindere il contratto per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, faremo sicuramente, daremo voce ai cittadini per questo. L'articolo che ricordiamo, tra l'altro, fu inserito grazie alla mano provvidenziale di quella che poi oggi è una candidata, una delle candidate molto importanti come tutti all'interno della lista, una lista composta da molti giovani, ma soprattutto da persone incensurate e che comunque con la politica, proprio con la P maiuscola, hanno veramente poco a che fare, ma hanno molto a che fare con la vita sociale, con la vita culturale della città di Bova Marina. Sì, sì, ho detto bene, fortunatamente, ecco, questo la dice lunga, sulle persone che hanno esperienze che devono essere presenti anche nella composizione delle liste per le elezioni comunali, perché, insomma, è una chiacchia, ormai è un modo di parlare per chi non ha argomenti, quello di dire sempre gli stessi, i giovani, sì, veramente i giovani ci hanno dato molto da fare in questi mesi di composizione della lista. Comunque, per tornare al vero problema, è stato proprio questo, per fortuna, che a suo tempo, la dottoressa Scordo, consigliere comunale di minoranza, fece questa battaglia. Per dire la verità, poi, la bontà del discorso che lei portava avanti, della proposta, è stata recepita da tutti ed è stata attuata con l'iscrizione in questo articolo della Convenzione di questo elemento di garanzia, perché, vedete, tante cose non sono state, anche tornando al centro AISM, cioè tornando, partendo ancora dal centro AISM, ma anche l'accordo di programma che nel 2006 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Buova Marina, cioè dell'accordo che prevedeva il Comune di Buova Marina, AISM e Comunità Montana, l'assegnazione alla Comunità Montana come attuatore di quel progetto di 3 milioni di euro, e quello è stato anche un errore gravissimo. E anche questo, torniamo alle garanzie, anche lì non c'erano elementi di garanzia per il Comune, tant'è vero che quella costruzione, quel progetto, quell'opera è stata portata avanti senza che il Comune avesse mai messo lingua, dente, bocca, quello che vogliamo, avesse potuto effettuare dei controlli e delle verifiche per raddrizzare una barca che stava affondando e che ha affondato tutto sommato. Quindi sulla composizione della lista, sì, ho detto bene, senza dilungarmi nell'elogiare anche, l'ho fatto ieri nella presentazione, le qualità dei miei candidati, una scritta che abbiamo messo come nostro motto, concetto, quella di Benedetto Croce, non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o di chissà quali grandi uomini, ma abbiamo solo bisogno di gente più onesta e noi riteniamo che questo pedigree, per dirlo in un termine così, è un po' curioso, però questa caratteristica, tutti i 12 candidati più il candidato a sindaco, ce l'abbiamo. Tra l'altro lei ha aderito alla campagna di Don Ciotti che l'ha marchiata, tra virgolette, come candidato verificato e quindi incensurato, lei ha pubblicato quelle che sono le sue proprietà, il suo patrimonio economico, per essere completamente trasparenti. Trasparenza che è indispensabile all'interno di un comune e che sarà ancora di più accentuata grazie anche alla partecipazione dei cittadini, quindi torniamo alla democrazia partecipata, anche perché a gennaio il primo incontro ufficiale in campo elettorale per le elezioni amministrative del PD fu proprio questo, fu proprio su questo tema, della democrazia partecipativa. Effettivamente è così, noi abbiamo visto bene, era già il periodo in cui si erano cominciate le trattative, quindi le attenzioni verso la composizione della lista per affrontare le elezioni comunali, del rinnovo del Consiglio Comunale e abbiamo già da un buon partito lungimirante perché voglio ricordare che la culla di questa lista è stata il Partito Democratico, brillantemente diretto dal segretario Pasquale Cara che con una nuova compagine e composizione del direttivo dell'Assemblea stessa è fatta come un mix anche lì di giovani, persone più di esperienza e anche anziani di partito perché la verità è che questo partito è stato formato dalla fusione di due grandi partiti, due grandi idee, diciamo la democrazia cristiana che poi è diventata partito popolare, Margherita e il partito comunista poi è diventato PDS, DS e quindi partito democratico. Quindi questi due grandi movimenti, questi due grandi ideali hanno capito negli anni appunto del 2000 di questo terzo secolo di poter assieme portare avanti quella che è la bontà dei loro valori. Quindi diciamo che noi ci preoccupiamo soltanto di passare questo messaggio alla gente più che la richiesta del consenso naturale e legittima da parte di tutti i candidati noi stiamo lavorando proprio su questo per consentire che attraverso i media ma anche nel porta a porta che noi domani cominceremo girando per tutti i quartieri di Bova Marina con tutti i candidati cercheremo di portare e di passare avanti. Noi non abbiamo preoccupazioni, problemi di farneticazioni che si fanno in giro, la nostra fedina penale è pulita e sfidiamo tutti a dire il contrario, non a dire, a dimostrare il contrario il che è diverso. Infatti tra le varie strumentalizzazioni perché in campagna elettorale succede di tutto c'è anche quella della sua passata attività amministrativa lei è già stato sindaco di questo comune per un breve tempo però viene accusato per esempio per il discorso della discarica e della sua bonifica. Io mi pare che in quell'anno e mezzo in cui sono stato sindaco ritengo di aver fatto più di tanti altri quantomeno non ho fatto i danni che ha fatto l'ultimo sindaco. Per la discarica mi pare di essere stato ieri anche il suo network si dice così in senso molto ampio in senso molto ampio ha registrato puntualmente non la mia accusa ma la mia difesa ad onore della mia sia dignità onorabilità e anche quella oltre che di persone di amministratore. Lei ha fatto anche un appello preciso se agli accusatori lei ha detto se avete le carte dimostratelo denunciate pure. Sì 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 l'ho detto dopo aver puntualmente io pensavo di annoiare la la moltitudine mi si passa il termine di persone che sono venute e hanno voluto partecipare e ascoltare questa nostra presentazione c'era come le immagini lo possono dimostrare la piazza piena la balaustra della piazzetta davanti alla chiesa a Stracolma voglio dire è una cosa impensabile fino a qualche anno fa questo vuol dire tanto vuol dire che c'è un'inversione di tendenza vuol dire che stiamo dando fiducia alla gente sfiduciata io certamente siccome sono un rispettoso delle norme delle leggi e quindi anche della magistratura io chiaramente siccome fino a ora si era farneticato soltanto ma l'ultima volta veramente mi è sembrato strano che la capolista la candidata a sindaco della lista la dottoressa Faenza che è stata il revisore dei conti e responsabile dell'area finanziaria del comune abbia potuto dire una cosa del genere ma al di là di quello che ha detto diciamo dal punto di vista tecnico e numerico che io ho dimostrato ampiamente non essere in quel modo ha pronunciato un termine gravissimo quello della distrazione la distrazione dei fondi è un reato previsto dal nostro codice penale per cui se la dottoressa ritiene o qualcuno della sua lista che è farnetica ritiene che io abbia distratto questi fondi c'è la magistratura che è l'orgono di garanzia che la nostra costituzione ha previsto a tutela sia dei cittadini che della pubblica amministrazione prego si procedano e non ci sono problemi e quindi siamo all'appello finale il 25 maggio ci saranno le elezioni perché il cittadino bovese deve votare municipio bene comune il cittadino bovese deve votare perché esercita deve esercitare un diritto un diritto non deve certamente obbligatoriamente votare la mia lista noi riteniamo che la proposta che abbiamo fatto che è quella di persone che si sono messe in campo in competizione hanno messo la propria faccia la propria personalità la propria competenza anche in esperienza abbia il diritto di chiedere ai cittadini di bova marina di votare per loro perché il bene comune per noi è il punto fondamentale la traccia il filo conduttore di questa nostra campagna elettorale che poi sarà la campagna amministrativa se avremo il suffraggio e la fiducia dei cittadini perché la devono avere perché noi vogliamo tutelare il territorio la qualità dell'ambiente la fiducia nei rapporti sociali che sono molto scaduti la legalità e la vivibilità urbana il linguaggio la memoria anche di questa nostra civiltà la legalità ma anche i diritti dell'uomo andiamo dalla regolazione del mercato alla tutela della salute l'istruzione le infrastrutture pure sappiamo che c'è molto bisogno di questo le scuole le strade il museo archeologico il parco il mare la spiaggia questi sono i beni comuni il bene comune è anche un bene che è stato sempre dimenticato gli immensi terreni di proprietà della fondazione Caterina Marzano che erano terre di nessuno fino a quando qualcuno me compreso ha cominciato a interessarsi ma in in stretta sintonia collaborazione con il comune questa fondazione potrà mettere a frutto nel principio della sussidiarietà potrà mettere a frutto questo grande potenziale anche per lo sviluppo di buona marina e per l'occupazione di molti giovani quindi queste tutte queste cose che ho elencato è tutto quello che vogliamo mettere in più è tutto bene comune in una cittadina civile come dovrebbe essere come è stata Boba Marina ecco perché noi facciamo appello agli elettori riteniamo che non faranno una scelta sbagliata perché bisogna avere fiducia e io penso che la nostra lista potrà avere ha il diritto di chiedere ai cittadini fiducia il voto il voto è libero ognuno voti secondo coscienza una cosa che mi sento di dire agli elettori di non dividere i voti purtroppo c'è una brutta abitudine a Boba Marina perché siamo un paese piccolo ci conosciamo tutti ci sono rapporti di amicizia di parentela e però bisogna scegliere bisogna scegliere non è possibile più votare in una famiglia di tre persone una lista un voto ad hotelitano uno a curupi e uno alla faenza per carità ognuno è libero anche in una famiglia di votare per diverse liste però fate una scelta cioè se la scelta è solo la divisione per accontentare è sbagliato se poi la scelta è una condivisione è una scelta proprio di principio per cui uno crede e ha fiducia in quella lista è un altro discorso però dividere i voti così è sbagliato chi andrà ad amministrare dovrà avere anche non solo la fiducia ma deve avere anche il consenso deve avere la tranquillità di poter operare sapendo che può contare sulla fiducia e sulla maggioranza dei cittadini se no è tutto vano è tutto vacuo è tutto così lasciato ognuno va lì e fa quello che può perché se non c'è questo questo apporto perché i cittadini devono abituarsi non solo a protestare è giusto protestare è un diritto anche dei cittadini protestare però insieme alla protesta si deve proporre e proporre proporre significa dare anche delle soluzioni e una volta che le soluzioni sono condivise anche dall'amministrazione comunale la quale è poi tenuta ad applicarle con gli atti deliberativi e gli strumenti che ha poi deve essere osservata e sostenuta dai cittadini questa soluzione che i cittadini hanno contribuito a prendere insieme agli amministratori ecco perché noi desideriamo che si voti secondo un principio di coscienza e di fiducia ritenendo che scusate l'immodestia la nostra lista ha tutti i requisiti per essere votata sia per fiducia che per competenza e per onestà grazie a tutti Grazie a tutti.